Siamo a due settimane dall'inizio del campionato, come sta proseguendo la preparazione dei ragazzi? Direi bene, tutto sta funzionando bene, soprattutto non abbiamo avuto nessun tipo di inconveniente, questo è già un gran risultato, bisogna fare i scongiuri, però perché ancora manca qualche giorno. Siamo pronti, o meglio, stiamo preparandoci, credo che la strada sia molto lunga e anche in salita, però ci stiamo preparando bene. E le amichevoli stanno andando anche dei buoni risultati? Direi di sì, direi che le amichevoli che abbiamo fatto, al di là delle vittorie, anche e soprattutto del bel gioco, già una fisionomia della squadra, questa è sempre molto importante perché chiaramente deve essere il motivo importante della nostra stagione, cioè dare un'identità ben precisa alla squadra. Partire col piede giusto su un campo, tra l'altro, che poi è sempre abbastanza difficile, sarebbe importantissimo, ci proveremo, saremo pronti. Coach Repesa, siamo a due settimane dall'inizio del campionato, come sta proseguendo la preparazione dei ragazzi? Ma sai, come direbbe ogni allenatore, ci manca una settimana di più o due settimane di più, ma siamo messi così tutti uguali, sai. Abbiamo fatto buon pre-campionato, abbiamo fatto buon ritiro, andando piano piano, per fortuna abbiamo avuto quasi tutta la squadra da primo giorno insieme, mancava solo Carlos Delfino che è tornato l'altro ieri e dovrebbe cominciare a lunedì con la squadra, con allenamenti, con lavoro. Tutti gli altri, per fortuna, nessuno si è fatto male durante il ritiro, hanno fatto tutti e tutti gli allenamenti, tutte le richieste che abbiamo avuto, hanno giocato tutte e tutte le partite, da questo punto di vista potrei essere veramente soddisfatto. Da punto di vista tattico siamo un po' indietro, ma questo è normale perché è un nuovo gruppo con tanti giocatori nuovi, ci vuole pazienza, con parecchi giocatori giovani ci vuole pazienza, prima di tutto assorbire le cose più base e dopo piano piano costruire il completo sistema di gioco. Che ambiente hai ritrovato a Pesaro? Nonostante come lasciato, uguale. È bello dove si respira basket 24 ore, dove si respira basket dentro la città, sulla spiaggia, una città di basket. Nuovissime emozioni con una squadra nuova, fortunatamente, lo dico personalmente, è tornato a guidare questa squadra uno dei migliori coach che ci sono in questo campionato, credo che le sue capacità abbiano dimostrato in questo pre-campionato che nonostante la squadra sia nuova, però i giocatori sono stati scelti bene, con testa e abbiamo visto un buon gioco finora. Le aspettative magari sono anche leggermente cresciute, è importante partire bene da subito anche per arrivare nelle Final 8 magari? Sicuramente il format delle Final 8 è un format che favorisce magari una squadra come noi, magari una squadra un po' più corta, un po' più imprevedibile in questi scontri diretti che può dire la sua e sono convinto che ci sarà da divertirsi sicuramente fino alle Final 8, senza però perdere come obiettivo di concludere bene anche la fine del campionato. Quest'anno è un gruppo molto molto compatto sin dai primi giorni di allenamento, quindi sicuramente è un buon segno, ci sono ancora tante cose da lavorare, però c'è molta voglia di stare in palestra e quindi sono tutti segnali molto incoraggianti per far sì che sia appunto un'ottima stagione, quindi lavoreremo perché sia un'ottima stagione, però ripeto i segnali sono davvero incoraggianti. Due anni fa non vestivi la maglia della VL, non hai avuto il coach Reppe già come allenatore, come ti è sembrato? È tosto? Sì, è tosto, è un ottimo allenatore, molto preparato, mi piace un sacco stare in palestra e ascoltare consigli o comunque essere allenato da uno del suo calibro, insomma il suo zampino si vede, stiamo facendo un ottimo precampionato, e gli allenamenti sono molto intensi e secondo me ci sarà da divertirsi. È una tradizione che si rinnova, NTS Informatica e Ranocchi Software ormai sono partner storici gold della VL, è stato un anno, veniamo da un anno interessante, divertente, dove ci siamo presi delle soddisfazioni, l'anno precedente lo è stato lo stesso, speriamo che lo sia anche quest'anno, noi siamo sempre al fianco dei nostri amici della VL e di tutti i tifosi. Ecco, prima hai augurato ai giocatori una grande stagione, play-off oppure final eight, un grande entusiasmo anche dalla famiglia Ranocchi per questa nuova stagione. Assolutamente, un grandissimo in bocca al lupo da parte nostra ed è un onore avervi nuovamente qui per la presentazione dei ragazzi della squadra, vedo delle facce giovani, sorridenti, determinate che ci faranno sognare tanto quest'anno, quindi l'obiettivo è veramente una stagione al massimo e la nostra famiglia, la città, tutti quanti saremo presenti al palazzetto a tifare sempre per questa grande squadra.